E da qui, dalla Chiesa Santa Maria del Principio, che partirà domenica alle ore 17, domenica d'ottobre, la processione di San Giorgio e dell'Immacolata Concezione. Dopo gli anni di Covid che ci hanno visto dover bloccare insieme alla Chiesa tale processione, ritorna la festa e la lava, onoriamo quelle che sono le nostre tradizioni, una festa dei san giorgesi, una festa nella nostra città, per ricordarci che siamo una grande e bella comunità.